Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica di cura della pelle. Trattandosi di una rubrica completamente nuova, ma soprattutto trattandosi di una rubrica che tratterà un argomento che è diverso da quello relativo a tutte le altre rubriche, perché qui appunto parleremo di pelle e non di capelli, in questo video voglio introdurvi un pochino all'argomento e voglio farlo parlandovi dei quattro tipi di pelle che possiamo trovare, perché la prima cosa da fare per prendersi correttamente cura della propria pelle è capire appunto che tipo di pelle abbiamo. Possiamo avere la pelle grassa o impura, la pelle mista, la pelle cosiddetta normale e infine possiamo avere la pelle secca o delicata. Il primo tipo di pelle di cui vi voglio parlare è la cosiddetta pelle normale, che un po' come per i capelli è un tipo di pelle molto molto raro da trovare, difficilmente ci sono persone che hanno la pelle cosiddetta normale, perché la pelle normale è una pelle che non presenta impurità, non presenta stati di secchezza, non presenta una difficoltà di traspirazione ed è quindi una pelle capace di autogestirsi senza particolari cure. In secondo luogo vi voglio parlare della pelle grassa. La pelle grassa o impura è una pelle che presenta pori dilatati, ha un'eccessiva secrezione di sebo, tende facilmente ad avere problemi come acne, impurità varie, punti neri. È quindi una pelle ipernutrita che necessita di tutta una serie di trattamenti che la aiutino a depurarsi, a mantenersi quindi con una traspirazione superiore per fare in modo appunto che non avvenga l'occlusione dei pori. E in terzo luogo vi voglio parlare della pelle secca. La pelle secca è una pelle che tende ad essere leggermente denutrita, quindi tende facilmente ad esquamarsi, è soggetta alle irritazioni. Difficilmente chi soffre di pelle secca soffre di impurità come acne, punti neri, pori dilatati, ma tutto al contrario presenta appunto questa pelle che tenderà a grinsirsi molto facilmente e quindi necessita di particolare idratazione e soprattutto di nutrizione per fare in modo che venga ristabilito un certo grado di film lipidico così da essere protetta dagli agenti atmosferici esterni. Infine esiste la cosiddetta pelle mista. La pelle mista è un mix tra la pelle secca e la pelle grassa per cui chi soffre di pelle mista avrà le guance che tendono a seccarsi quindi povere di film lipidico, disidratate, con tutti i problemi tipici della pelle secca e la zona T, quindi la fronte, il naso e il mento che presentano invece le caratteristiche della pelle grassa quindi impurità, pori dilatati, scarsa traspirazione della pelle e questo è il tipo di pelle un pochino più difficile da trattare perché appunto richiede due tipi di trattamenti differenti e nel contempo è, ahimè, ahi noi, anche il tipo di pelle più frequente da incontrare. È molto probabile che molti di voi abbiano la pelle mista e che quindi debbano andare a lavorare nei punti specifici per risolvere le problematiche tipiche di ciascuna zona. Detto questo c'è anche da analizzare un altro fattore perché oltre al tipo di pelle con cui nasciamo dettata in qualche modo dalla genetica esiste anche la questione dell'età una pelle più giovane inevitabilmente presenterà meno problemi rispetto a una pelle più anziana che andrà ad avere delle problematiche specifiche dell'età ad esempio nella fase adolescenziale so che ci sono molti adolescenti che mi seguono è normale avere una pelle che tende a diventare grassa che tende a fare acne, brufoli, punti neri molto più facilmente di una persona magari con lo stesso tipo di pelle però più grande 21, 25, 30 anni questo è dovuto a tutta la tempesta ormonale che si scatena nel corpo nel passaggio dall'infanzia all'età adulta nel momento in cui appunto i vostri ormoni naturali si sono attivati e il corpo deve capire un pochino come regolarli mentre invece le persone mano a mano che tendono ad invecchiare incontrano tutta una serie di problematiche specifiche pelle che tende a seccarsi di più quindi chi ha la pelle secca avrà la pelle ancora più secca tessuto documentario che tende a cedere perché soprattutto per quanto riguarda la pelle del viso i muscoli del viso non sono muscoli cosiddetti ossei quindi che hanno come per esempio i muscoli del braccio, delle gambe o di tutto il resto del corpo un attacco su un osso sono cosiddetti muscoli pellicciai sono muscoli che quindi non sono collegati direttamente con dei tendini alle ossa e quindi con il tempo, la forza di gravità, le espressioni ripetute tenderanno a farli cedere un pochino non andiamo a bestemmiare questa cosa, è un po' triste dal punto di vista estetico però se non avessimo i muscoli pellicciai non potremmo essere espressivi perché il movimento del muscolo sarebbe molto più limitato quindi in questa rubrica sostanzialmente andremo ad affrontare mano a mano i vari temi relativi ai vari tipi di pelle e soprattutto ai vari tipi di età perché appunto in base all'età che avete cambia la cura che dovete avere della vostra pelle ed è questa la sostanziale differenza tra la cura del capello e la cura della pelle in questa rubrica quindi andremo sostanzialmente ad affrontare tutta la tematica che riguarda la pelle un po' per volta attraverso ricette, consigli, studi perché lo sapete a me piace tantissimo studiare anche di questi argomenti andremo col tempo a risolvere quelli che sono i problemi fondamentali dei vari tipi di pelle e andremo quindi insieme a sviluppare una routine un po' più amica della pelle e della natura esattamente come facciamo per i capelli il video quindi finisce qui mi dispiace di avervi fatto attendere tanto per far uscire questo video ma la settimana scorsa non ero proprio riuscita a girarlo questa settimana ho trovato delle difficoltà perché siamo in pieno clima elettorale per la consulta studentesca in accademia io sono una dei candidati quindi probabilmente mentre voi state guardando il video io sarò nel giorno delle elezioni cioè nel giorno delle votazioni quindi starò con tanta tanta ansia e incresciamo le dita speriamo di riuscire ad avere questo ruolo all'interno della consulta perché mi piacerebbe tanto migliorare le cose in accademia ha un grande potenziale in espresso nel frattempo non posso che salutarvi augurarvi una buona settimana ci vediamo lunedì prossimo ciao tanti piccoli esperimenti ma perché ma che fai dai devo tenerti lontano dalla telecamera vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua madonna come pesi sentirete sicuramente le sue fusa in questo video quindi andremo sostanzialmente ad affrontare mi hai pure girato la telecamera stronzo forse questo video vi sembrerà un po' vuotino ma non volevo partire di quarta come ho fatto con i video per i capelli quindi spero che comunque vi possa essere interessato se non siete arrivati fino a qui almeno avete il premio Romeo che sta rompendo le scatole tanto oggi saluta dai noi aspetta noi ci vediamo noi ci vediamo lunedì prossimo con la prossima rubrica che non mi ricordo qual è ovviamente intanto ci salutiamo eh sì va bene ciao